6, 7, 8, 9, 10 Alle volte saper fare la cosa giusta nelle situazioni di emergenza può salvare una vita. A questo servono i corsi BLS che insegnano tecniche di primo soccorso che comprendono manovre di rianimazione cardiopolmonare ed eventualmente anche l'utilizzo del defibrillatore. Sono corsi base e di facile apprendimento accessibili a tutti ma che alle volte possono fare la differenza tra la vita e la morte. Sono 60.000 le persone che per varie ragioni sia accidentali che naturali annualmente vengono colpite dal resto cardiaco come un'intera città di Fano e di queste purtroppo 40.000 muoiono. E' per questo che l'American Heart Association, la massima autorità mondiale in ambito cardiologico dal 2015 ha creato Atmosfera for Life corsi per formare personale laico e sanitario sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Questa mattina il dottor Giancarlo Titolo, un formatore dell'International Training City dell'American Heart nonché il responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano assieme alla collega Eleonora Bigonzi e ai suoi collaboratori del pronto soccorso ha tenuto una dimostrazione pratica di cosa e come fare con gli alunni della prima A e B del liceo Nolfi attraverso anche l'utilizzo di speciali manichini. Diciamo che le nostre non sono lezioni, sono un momento di istruzione molto pratica. Faremo 4-5 diapositive e poi ci metteremo a lavorare sui manichini che poi vi farò vedere che è la cosa più veloce per far imparare questo tipo di materie. Addirittura nelle linee guida American Heart sono entrati i social network, c'è il warning, quello che avete visto per il terremoto di due anni fa, nel quale c'è l'appello a chi sa fare rianimazione cardiopolmonare nell'arco di 500 metri. Andrete anche a Pesolo dopo Fano? Sì, 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 Pesolo e Fano, insomma, sono la stessa cosa, insomma, siamo uniti da Marche Nord. Iniziativa accolta con grande interesse sia da alunni che da docenti nell'ambito naturalmente dei percorsi formativi per gli studenti. Partiamo oggi con questa iniziativa ma in realtà si interseca con un percorso che noi da anni stiamo portando avanti di training preciso, preventivo, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro che i ragazzi svolgono nel triennio, quindi tutti gli studenti delle classi terze affrontano un percorso con varie associazioni del territorio per acquisire questa modalità comportamentale che permette di non essere presi dal panico nelle situazioni di criticità ma riuscire comunque a svolgere, a mantenere dei comportamenti corretti. Grazie.